Se volete acquistare crediti passate da FIFA Coinzone sono veloci, sicure e con ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete il 5% di sconto troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, benvenuti e mi iscritti più di tutti bentornati su GIOVISPO Io sono GIOVISPO e questo è un altro wager match contro un altro iscritto naturalmente se anche tu, anche voi volete fare wager match contro di me mi dico mettere mi piace la pagina Facebook e contattarmi tramite un messaggio è semplice, cioè mi piace accanto c'è un messaggio, semplice semplice dunque questa è la squadra che userò, è una BPL con una Ligan, semplice semplice un if Cavani, la vezzi, ma tu i digli e vabbè, o what importa il wager match sarà da 5k e sarà per la serie wager 2 Lewandowski sono ancora a 10k, a 10.000 crediti e oggi vedremo se si avanzerà oppure si tornerà a 5k anzi, si perderà ancora altri 5.000 crediti comunque, ora attendo l'invito ed eccomi, squadra avversaria 82, 78, 79, la mia 80, 79, 74 cazzo, 74 in difesa, sono proprio scarso in difesa comunque, vince chi segna più gol, non chi subisce meno gol oppure è vero così voi lo sapete? il detto, segna chi vince più gol? si o no? ah vabbè comunque segna chi vince più gol chi fa più gol, non chi subisce meno gol comunque questa è la sua squadra Schurl, Martinez, quadrato, Guarin, Fintero, Matic, Axpiclueta, va, Dante, Boateng, Conco e Reina in porta sembra quanto ardua questa squadra ma non bisogna mai, mai, diciamo, disperarsi o sottovalutarsi, o sopravvalutarsi Cavani per Gurguf, il tiro di Gurguf, la parata poi c'è Cavani, con questo pallonetto speffato, pallonetto c'è il gol di Edinson Cavani così con questo pallonetto, tocco, tocco, morbido, morbido 1 a 0 balla per Cavani Cavani in tiro Matuidi in tiro gol cazzo di gol ha fatto questo Matuidi non è neanche il suo piede il destro cazzo, Matuidi, 2 a 0 e Matuidi, Matuidi su il cross con la testa di Cavani però c'è tu Ivan, che sbaglia che tira di testa da fuori aria ma da dove si vede una cosa del genere pallo per Gurguf Gurguf ancora Bright White, il tiro dalla distanza cazzo Bright, Bright White fa schifo nel tiro dalla distanza fa veramente schifo Churrell mamma mia questa paratona di 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 ancora Howard ma Howard è veramente pagato come portiera Gurguf la dà così alla Vezzi che la dà per Bright White il tiro di Bright White fermato da Dante però ottimo la difesa di Dante e cazzo è successo qui mamma mia che salvataggio Matuidi migliore in campo Matuidi, migliore in campo cazzo non è però non è finita questa azione sp... pre... prend... 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 pre... ok basta 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 ehi ehi oh oh ehi 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 oh là punizione brutta 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 con quadrato alla battuta quadrato alla battuta fuori 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 oh no mamma mia Howard ancora una volta si supera per l'ennesima potenza oh cazzarola surprise motherfucker lo sapevo 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 no no c'è comunque così vittoria 2 a 1 5.000 credit 2 vittorie una sconfitta poi secondo me fino alla fine perderò il conto delle vittorie delle sconfitte e vabbè dunque partita vinta invito ancora una volta a passare dalla pagina facebook se anche voi volete fare wager match contro di me iscrivetevi al canale se non siete già iscritti intanto vediamo anche le istituzze di Kess voglio vedere secondo me oh vabbè oh quanto vicino pur Giuseppe Reina non ha giocato maluccio ma tutti però migliori in campo e dunque la partita si conclude qui spero che vi sia piaciuto lasciate un bel pollice all'insù e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti